Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose dell'altro cinema. Come potete vedere questa settimana sto postando parecchio e il motivo non è chissà quale, soltanto che mi è capitato un fine settimana un po' più tranquillo, mi sono liberato di alcune rogne che mi tenevano il cervello in ostaggio e adesso sono più rilassato, quindi voglio fare un po' di video anche così per divertirmi. Questo video non sarà una recensione, anche perché dopo aver visto quella villa in fondo al parco non voglio vedere più monnezza per almeno 3-4 giorni, quindi datemi tempo. È un video che faccio semplicemente per rispondere ad alcuni di voi che mi hanno chiesto in messaggi privati o nei commenti se oltre a guardare questi film di merda di cui faccio le recensioni mi piace anche il cinema normale e molti l'hanno definito, cioè ti piace anche il cinema normale Allora, a me il cinema normale piace, piace molto, cioè la mia passione per i film di merda deriva dalla mia passione per il cinema di alta qualità o comunque per il cinema e se volete saperlo per me il cinema è la forma d'arte più completa che ci sia e magari qualcuno non sarà d'accordo, magari qualcuno dirà che sono di parte perché a me piace il cinema allora dico che è la forma d'arte migliore, ma in realtà se ci pensate in un film c'è l'arte della narrazione, c'è l'arte dei colori, l'arte delle luci, l'arte della scenografia, c'è l'arte della musica, c'è l'arte della recitazione, cioè praticamente io credo che non esista e tra l'altro c'è anche la scienza, c'è anche la tecnica, l'applicazione tecnica a tutto quello che abbiamo appena detto, narrazione, colori, luci, musica, tutto quanto, cioè il cinema è secondo me un contenitore in cui di epoca in epoca viene riversato tutto quello che di nuovo c'è in ambito artistico, quindi non è una cosa da sottovalutare, solo perché il cinema fa intrattenimento e quindi è così di primo acchitto potrebbe sembrare una forma d'arte più popolare, non è detto che sia inferiore alle altre, anzi a mio avviso quando una forma d'arte è compresa da tante persone è davvero una forma d'arte, quando una forma d'arte te la devono spiegare i critici o peggio te la deve spiegare l'autore stesso, quando mi avvicino ad un quadro e chiedo che cazzo ci hai fatto qua sopra, io non capisco, viene lui e mi fa no questo quadro si chiama introspezioni nelle cozze del Mar Rosso, cioè quella per me non è arte, quella è una presa per il culo, per me quella lì è un pretesto, un pretesto per fare soldi, per darsi un tono. Spero di aver chiarito la mia posizione riguardo al cinema, io non vorrei che mi prendeste per un intellettualoide che sta lì a fare nomi di registi, date, biografie, no, non ne so niente ragazzi, cioè non sono uno che ha studiato cinema, sono uno che ha studiato i film, è una cosa diversa, poi ho studiato le tecniche del cinema, quindi so cos'è la regia, so cos'è uno storyboard, so cos'è il montaggio, cioè però c'è una bella differenza tra studiare cinema e studiare le tecniche del cinema, ecco io non sono uno che studia cinema, quindi mi sentirete molto raramente parlare di date precise, vedete nei film quando faccio le recensioni sparo sempre un paio di date, 2005 e 2006 non mi ricordo, cioè perché comunque non me ne frega niente di queste cose, quindi prendete quello che vi dico come, cioè non è che sono un critico ragazzi, magari io vi dico che questo film è bello, a voi fa cagare, è giusto, è giustissimo, però vorrei darvi la mia impressione, visto che sui film di merda siamo tutti d'accordo, vediamo se siamo d'accordo anche su quelli non di merda. Allora, niente, siccome per darvi l'idea di cosa mi piaccia realmente, forse ci perderemo troppo tempo, magari prendo due o tre film che mi sono piaciuti negli ultimi anni, cioè che ho visto negli ultimi anni, attenzione, perché magari sono film del 2000, però film che ho visto ultimamente, così sono anche libero dall'affezione dei film che ho visto da piccolo, che magari fanno cagare ma a me piacciono perché mi ricordano i bei tempi, quindi prendiamo qualcosa che ho visto recentemente. Allora, Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Questo film è un film di Wes Anderson che poi ha girato Rushmore e Itenenbaum e ultimamente mi pare che abbia fatto un altro film, visto un trailer, andai che pronuncio, visto un trailer che si intitola Moonlight, Sunrise Kingdom, Moonlight Kingdom, una cosa del genere, e credo che me lo procurerò appena esce in DVD, non amo molto il cinema, c'è sempre qualcuno che sgranocchia, gente che ti passa davanti, rumori, da fastidio, e appena uscirà in DVD lo prenderò perché, insomma, fino adesso quasi tutti i film di Wes Anderson mi sono piaciuti da 1 a 10, 10, quindi un acquisto sicuro. Questa avventura acquatiche di Steve Zissou è presentato come una commedia, ma secondo me è un fantasy, ragazzi. Immaginate che la storia non è niente di particolare, è quest'uomo che fa il documentarista marino, ispirato molto a Jacques Cousteau come personaggio, però si chiama Steve Zissou, e questo Steve Zissou sta attraversando un brutto periodo della sua carriera, i suoi documentari non vanno tanto bene, e a un certo punto, siccome un suo vecchio amico e collega viene ucciso da questo squalo giaguaro, che però nessuno è riuscito a riprendere, quindi la gente pensa che lui abbia costruito questa montatura, decide di andare a caccia di questo squalo giaguaro e di fare quindi quest'ultimo documentario. Nella spedizione prende parte anche un ragazzo che si fa vivo alla prima del suo film fallimentare, del suo floppone, e gli dice che forse lui è suo figlio. Insomma, Steve Zissou lo prende nella troupe, anche lui quindi fa parte di questa spedizione, e partono per questa avventura marittima. La cosa grave, cioè la cosa fantastica in realtà, è che nel film non si parla mai di questa caccia allo squalo giaguaro, cioè è un pretesto, questa non è la trama, questo è soltanto l'incipit da cui poi si vanno a divanare un sacco di situazioni, a volte divertenti, a volte tragicomiche, a volte proprio toccanti, tra Steve Zissou, suo figlio, o presunto tale, e gli altri membri dell'equipaggio, quindi tra cui anche la giornalista, la sua ex moglie, c'è un bravissimo Jeff Goldblum che fa, credo che sia un oceanografo, non mi ricordo bene qual è il suo ruolo, comunque è un tizio pompato che è l'acerrimo nemico di Steve Zissou, cioè ci sono questi personaggi che sono fantastici, anche perché, ve l'ho detto, sembra un fantasy, cioè non è il nostro mondo quello di cui si parla, è come se fosse una dimensione parallela in cui tutto è assurdo, assurdo ma plausibile, cioè non è plausibile nel nostro di mondo, ma lì funziona tutto. I motivi per cui questo film lo ritengo un capolavoro è perché Wes Anderson ha un gusto dell'inquadratura, dei tempi, e fondamentalmente della messa in scena che è difficile trovare altrove. Provate a guardare questo film, ci sono queste focali quasi sempre all'infinito, cioè quasi sempre tutto a fuoco, non ci sono movimenti di profondità di campo, le inquadrature sono sempre, quasi sempre perfettamente simmetriche, tutti gli oggetti di scena sono disposti in maniera ordinata, precisa e perfetta, insomma è veramente strano, anche gli animali, i pesci che riprendono nei documentari non sono veri, sono tutti finti, cioè è un mondo a parte, i fragolini florescenti, i granchi caramellati, e queste creature tra l'altro sono fatte in stop motion, quindi per farvi capire il carico di follia che c'è dentro questo film. Da vedere assolutamente ragazzi, magari potrebbe non piacervi la prima volta, però dategli anche una seconda o terza chance, perché è veramente un film che più va avanti più vi piace. Il secondo film è un film che forse molti conoscono, perché se ne è parlato tanto come film più violento del 2000, non mi ricordo, si chiama Martyrs, ed è di un francese, L'Augier, Pascal L'Augier mi sembra, che poi è quello che ha fatto anche i bambini di Cold Rock, che a me non è piaciuto, o perlomeno è sicuramente un horror fatto in America, non in Francia, ma fatto in America superiore alla media, per carità, però rispetto a Martyrs lo definirei un po' inferiore. Questo Martyrs, niente, è un film che anche questo è etichettato come horror, ma secondo me è ben altro, e non è un film violento, è un film crudo, hostel, è un film violento perché senza la violenza la trama non andrebbe avanti. In Martyrs è il contrario, cioè senza la trama la violenza non ci sarebbe. Quindi è tutto giustificato, non è mai compiaciuta la violenza che vedete. Anzi, rispetto a Martyrs, in cui, scusatemi, rispetto a hostel, in cui vedi quelle torture, fai, schifo, madonna, l'occhio, il tendine. No, qui non fai, uh che schifo, qua ti senti male proprio, cioè ti senti male come se le facessero a te quelle cose, ed è ben diverso, non è un torture porn, e l'hanno anche etichettato torture porn, io li picchierei, li picchierei perché in questo film c'è un senso molto alto della violenza e del dolore e credo che vada rispettato. Caratteristica di questo Martyrs è la divisione in tre, cioè c'è una prima parte, una parte centrale, una parte finale, e queste tre parti sono girate in maniera completamente diversa, come ritmo, come schema narrativo, anche come dialoghi, cioè si vedono proprio tre parti nel film, e la cosa bella è che tu, alla fine della prima parte, ti rilassi perché dici, vabbè ho capito sto film, l'ho capito, inizia la seconda parte, rimani così, ti arriva una botta, quando ti abitui a quel tipo di situazione, bam, arriva la terza, quindi tu non riesci mai a rilassarti, anche il peggiore degli horror, il più crudele, a un certo punto tu entri nell'ottica, ti abitui e allora dici, vabbè, ok, è questo, invece lì no, lì ogni tanto ti mena una martellata in testa, fantastico. Terzo film, Scanner Darkly. Scanner Darkly, non so quanti di voi lo conoscano, perché in Italia mi sono stato molto pubblicizzato, io l'ho trovato a casaccio, vi dico la verità, cioè non è che io faccio le ricerche sui registi, me l'ha regalato mio cugino a Scanner Darkly, al mio compleanno, è venuto con sto film, neanche lui ne sapeva qualcosa, non è che mio cugino ha dato là, ah Scanner da questo potrebbe piacere a Mario, ha visto che c'erano questi fotogrammi un po' strani, nel film ha detto, ma vabbè, proviamolo a prendere, e mi ha regalato sto film, e lui secondo me, per là non si è reso conto di avermi regalato uno dei film che mi piacciono di più proprio al mondo, è un film strano, perché, vabbè, a parte la tecnica con cui è stato realizzato, praticamente hanno girato questo film e poi hanno ripassato con delle tavolette grafiche ogni fotogramma per renderlo come un cartone animato, però non è esattamente un cartone animato, diciamo che è una via di mezzo tra un film e un cartone animato, quindi le espressioni degli attori sono molto reali, le fattezze degli attori sono le stesse, ci sono Kenny Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr., loro sono loro, però sono passati come quei filtri di Photoshop, filtro artistico, però ovviamente fatto coi controcazzi, fatto da disegnatori con due palle e così, e niente, non vi rivelo anche qui troppo della trama, vi basti sapere che è una storia assolutamente assurda, ambientata in un mondo che è in ginocchio a causa della fortissima dipendenza che quasi la totalità della popolazione ha contratto per diversi tipi di droghe, tra cui questa sostanza M, che pare essere la droga più dannosa in circolazione, basta un'assunzione che poi sei dipendente, insomma è una cosa abbastanza grave, e addirittura ci sono queste sezioni di antidroga in cui ci sono questi agenti che normalmente nella loro vita di tutti i giorni magari sono anche drogati, spacciatori, infiltrati, poi entrano in ufficio, indossano queste tute che praticamente sono tute disindividuanti, che li rendono irriconoscibili, gli cambia la voce, gli cambiano i lineamenti, insomma loro sono nessuno quando indossano quella tuta, e quindi questa storia parla di uno di questi agenti interpretato appunto da Kenyon Reeves che si ritrova a dover indagare su se stesso, cioè lui indaga quando è al lavoro su se stesso, cioè su lui che fa l'infiltrato, ma non lo può dire a nessuno perché l'identità di tutti è segreta, quindi non è che può dire ragazzi datemi qualcun altro su cui indagare perché sto indagando su di me, quindi è costretto a vedersi dal di fuori, a videosorvegliarsi, a riguardare i nastri, cioè è un film pazzesco, non vi dico di più perché altrimenti vi rovino la sorpresa, e niente, questi sono tre esempi di film che io porterei tranquillamente all'altro mondo, se mi dicessero vuoi portare con te dei film all'altro mondo, questi tre ci sarebbero senza dubbio, e forse anche Blood Delirium.